Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti in MC4, io sono Rosario Castelli, responsabile commerciale della società Garnet. Garnet è presente da quasi vent'anni sul mercato italiano ed europeo, rappresenta in esclusiva marchi prestigiosi di importanti aziende costruttici di componenti elettronici ed elettromeccanici per l'automazione, la robotica e l'automotive. Garnet offre una vasta gamma di prodotti per quanto riguarda l'automazione e la robotica. Quello che volevamo presentare oggi è un prodotto di una nostra rappresentata americana che si chiama Performance Motion Device e il prodotto si chiama Machine Controller. Questo prodotto è una scheda per la gestione degli assi di movimento, si può gestire da uno a quattro assi e la novità è quella che è possibile integrare all'interno di questa scheda anche dei moduli con potenza fino a 1 kW che sono in grado di poter pilotare indifferentemente il motore DC Brushless or Stepper. Questi moduli vanno definiti in fase d'ordine e ci permettono di poter gestire all'interno della stessa scheda differenti tipologie di motore. La scheda di per sé permette di poter gestire sistemi sia trapezoidali che senosoidali, di fare un velocity contouring e di poter fare un gearing elettronico. permette inoltre di poter gestire un'interpolazione lineare e circolare e ha a disposizione anche degli ingressi e delle uscite di cui sono 16 in totale tra ingressi e uscite e permettono anche di gestire delle analogiche verso l'esterno. Oltre a questa tipologia di prodotti oggi volevamo presentare anche una novità nell'ambito della movimentazione dei sistemi servo stepper, in questo caso è un'altra società di cui abbiamo la distribuzione per l'Italia, si chiama Fastec e questa società ha unito le prelocative del motore passo passo e quelle del brushless creando un prodotto che integra entrambe le funzionalità. Quindi il sistema EZ Servo praticamente permette di poter gestire un motore passo passo elettrazionato con encoder e di poter quindi controllarlo esattamente come un motore brushless, quindi avendo un errore di inseguimento e permettendo di posizionare esattamente come un motore stepper, quindi mantenendo la temperatura inoltre molto più bassa rispetto a quella tipica del motore passo passo. Queste sono le novità che abbiamo intenzione di presentare all'interno dei MC4, comunque per tutti gli altri prodotti potete tranquillamente prenderne visione attraverso il nostro sito che è www.garnetitalia.com all'interno del quale troverete poi tutte le informazioni sia tecniche che di prodotto e i vari riferimenti a cui eventualmente inviare delle richieste.